Il mondo al vento scatenato La caduta dell'impero romano Domenica pomeriggio, a un certo punto, mi sono accorto che si era levato il vento, alle due e sette minuti per l'esattezza. In quel momento, come al solito, cioè come tutte le domeniche pomeriggio, ero seduto al tavolo della cucina e scrivevo il diario della settimana ascoltando musica leggera. Dal lunedì al sabato, infatti, annoto brevemente gli avvenimenti della giornata, poi la domenica li redigo in un discorso ben strutturato. Ero arrivato al martedì, quando mi sono accorto che fuori dalla finestra soffiava un vento tremendo. Ho interrotto la stesura del diario e messo il cappuccio alla penna. Sono andato sul balcone per ritirare la biancheria stesa. I panni sbattevano rumorosamente nell'aria, come la coda strappata di una cometa. Il vento si era rafforzato, a poco a poco, senza che vi facessi caso. Il mattino, infatti, per l'esattezza alle 10 e 18 minuti, quando avevo messo la biancheria a stendere sul balcone, non spirava un soffio d'aria. Su questo punto la mia memoria è salda come il coperchio di una fornace. Tanto che mi ero detto che in una giornata come quella non c'era bisogno di fermare la roba con le mollette. Lo giuro, non c'era un alito di vento. Dopo aver ritirato e piegato la biancheria, ho chiuso bene tutte le finestre dell'appartamento. A quel punto il rumore non si sentiva quasi più. Al di là dei vetri, gli alberi, dei cedri dell'Himalaya e degli Ibocastani, si torcevano silenziosamente, come cani presi da un insopportabile prurito. Stralci di nuvole come spie, dallo sguardo sospettoso, attraversavano il cielo a grande velocità e sparivano, e sul balcone di fronte alcune camicie si attorcigliavano attorno al filo di plastica, aggrappate come bambini abbandonati. Proprio un bel vento, mi sono detto. Ho aperto il giornale, ho guardato la cartina delle previsioni del tempo, ma il simbolo del tifone non c'era da nessuna parte. La probabilità che piovesse era dello 0%. A credere a quel che c'era scritto, doveva essere una domenica pacifica come l'era più gloriosa dell'impero romano. Dopo un sospiro al 30% della mia capacità, ho chiuso il giornale, ho sistemato la biancheria pulita nell'armadio, e mi sono fatto un caffè. Poi ho ripreso a scrivere il diario, bevendo un sorso ogni tanto. La musica era la stessa di prima. Giovedì sono andato a letto con la mia ragazza. A lei piace coprirsi gli occhi quando fa l'amore, infatti ha sempre con sé una di quelle mascherine di stoffa che si trovano nei pacchetti che distribuiscono in aereo per la notte. A me non è che la cosa faccia impazzire, ma lei è così carina con la sua mascherina sugli occhi che non posso davvero trovarci nulla da ridire. In fin dei conti tutti hanno il loro piccolo lato strano. Nella pagina di giovedì ho fatto dunque un resoconto approssimativo del nostro incontro. Nella stesura del diario mi attengo all'80% di fatti, 20% di commenti, è una regola. Venerdì in una libreria di Ginza ho incontrato un vecchio amico. Portava una cravatta tremenda, stranissima. Infiniti numeri di telefono su un fondo a righe. A quel punto è suonato il telefono. 2. La rivolta degli indiani del 1881 L'orologio segnava le 2.36 minuti. Forse è lei, mi sono detto, cioè la mia ragazza, cui piace coprirsi gli occhi. Infatti quel giorno doveva venire a casa mia e ha l'abitudine di chiamarmi prima di arrivare. Avrebbe portato gli ingredienti per la cena. Avevamo deciso di mangiare del riso con le ostriche la sera. Ad ogni modo, quando è squillato il telefono, erano le 2.36. Ne sono assolutamente sicuro perché, di fianco all'apparecchio, c'è un orologio. E lo guardo ogni volta che qualcuno mi chiama. Quando ho sollevato il ricevitore, però, dall'altra parte ho sentito solo il sibilo spaventoso del vento. Un uuuuh furibondo turbinava nella cornetta. Pareva la rivolta degli indiani del 1881. Stavano bruciando le baracche dei pionieri, tagliando le linee del telefono, violentando Kandinsbergen. Pronto? Ho detto. Ma la mia voce è stata sventuratamente assorbita dal tumulto incontenibile della storia. Pronto! Ho gridato allora. Stesso risultato. Tendendo le orecchie, nelle infinitesime pause del vento, mi è sembrato di sentire qualcosa che assomigliava alla voce di una ragazza, ma poteva essere una mia illusione. Il vento era troppo forte e furioso. O forse troppi bufali erano stati ammazzati dai visi pallidi. Per un po' sono stato zitto, in silenzio, con l'orecchio schiacciato contro la cornetta. Tanto forte da chiedermi se non avrei finito con restarci attaccato. Sono rimasto in quella posizione per quindici o venti secondi. Poi la linea è caduta, come se un infarto ne avesse spezzato il filo vitale. Restava soltanto un silenzio vuoto e freddo. Mi ricordava della biancheria lasciata troppo tempo nella candeggina. Quando Hitler invase la Polonia Cose da pazzi, ho pensato con un altro sospiro. Poi mi sono rimesso alla stesura del diario. Meglio sbrigarmi a finire. Sabato le truppe di Hitler avevano invaso la Polonia. Bombe a caduta rapida su Varsavia. No, no, mi sbagliavo. È stato il primo settembre del 1939 che Hitler ha invaso la Polonia. Non sabato scorso. Sabato scorso, dopo aver cenato, sono andato al cinema e ho visto La scelta di Sophie con Meryl Streep. È in quel film che si vede l'invasione della Polonia da parte di Hitler. Meryl Streep divorzia da Dustin Hoffman. Poi nel treno, tornando dal lavoro, incontra un ingegnere civile di mezza età interpretato da Robert De Niro e si risposa. Un bel film davvero, mi è piaciuto. Seduti di fianco a me c'erano due liceali, un ragazzo e una ragazza, che per tutto il tempo si palpeggiavano la pancia. Niente male la pancia dei liceali. Anche io una volta avevo una pancia da liceale. Poi il mondo del vento scatenato. Finito di scrivere tutto il diario della settimana precedente, mi sono accovacciato davanti allo scaffale dei dischi per scegliere della musica consona una domenica pomeriggio di Forte Vento. I più adatti alla circostanza mi sono parsi il concerto per violino di Shostakovich e un disco degli Slee and the Family Stone e li ho ascoltati uno dopo l'altro. Fuori dalla finestra passavano volando oggetti diversi. Un lenzuolo bianco che procedeva da est a ovest pareva uno stregone che preparasse una bevanda magica di radici ed erbe. Un'insegna di latta lunga e stretta tutta piegata lì indietro come uno dedito al sesso anale. Mentre guardavo quello spettacolo fuori dalla finestra al suono del concerto per violoncello di nuovo è squillato il telefono. L'orologio segnava le 3.48 minuti. Ho sollevato il ricevitore aspettandomi di nuovo di sentir soffiare il vento col rumore dei reattori di un Boeing 747 ma questa volta non è stato così. Pronto? ha detto una voce di donna. Pronto? ho risposto io. Sto andando a fare la spesa per stasera poi vengo lì. Per te va bene? Era la mia ragazza stava venendo da me con gli ingredienti per preparare la cena e la mascherina per gli occhi. Sì, va benissimo ma senti la pentola di terracotta ce l'hai? Certo che ce l'ho ma dove sei? Non si sente più il vento? Sì, ormai si è calmato qui a Nakano ha smesso alle 3.25 vedrai che fra poco smetterà anche lì. Può darsi, ho detto poi ho riattaccato sono andato in cucina ho tirato fuori la pentola di terracotta dallo scompartimento sotto il soffitto e l'ho lavata nel lavandino. il vento come aveva previsto la mia ragazza è cessato alle 4.05 precise ho aperto la finestra e ho guardato fuori sotto un grosso cane nero stava affiutando freneticamente il terreno è andato avanti così senza stufarsi per 15 o 20 minuti cosa diavolo cercava? A parte ciò il mondo non aveva subito il minimo cambiamento da quando si era scatenata quella bufera né nell'aspetto né nel funzionamento i cedri dell'Himalaya e gli ipocastani si ergevano placidi nell'aria come se non fosse successo nulla la biancheria se ne stava appesa immobile nella sua corda di plastica e i corvi appollaiati in cima ai pali della luce sbattacchiavano le ali lucenti come carte di credito poi la mia ragazza è arrivata e ha cominciato a preparare la cena in piedi in cucina lavava le ostriche affettava la verza disponeva su un piatto cubetti di tofu preparava il brodo le ho chiesto se per caso non mi avesse telefonato alle 2.36 certo che ti ho telefonato mi ha risposto mentre lavava il riso non si sentiva assolutamente nulla sì lo so il vento era troppo forte ho tirato fuori dal frigo una birra mi sono seduto al tavolo e l'ho bevuta chissà come mai tutta un tratto si è messo a soffiare con tanta forza e poi altrettanto improvvisamente ha smesso le ho chiesto ma chi lo sa ha risposto lei sempre voltandomi la schiena mentre sbucciava con le unghie ai gamberetti ci sono un sacco di cose che non sappiamo a proposito del vento com'è ci sono un sacco di cose che non sappiamo a proposito della storia antica dei tumori del fondo marino del cosmo o del sesso già ho detto che razza di risposta era ma discutere con lei di quell'argomento non sembrava portare a nessuno sviluppo così ho lasciato perdere e sono rimasto a guardare in silenzio i preparativi del riso con le ostriche posso toccarti un po' la pancia? ho chiesto dopo aspettando che la cena fosse pronta ho annotato brevemente gli avvenimenti di quel giorno in modo da poterli raccontare con precisione nel diario la settimana prossima la caduta dell'impero romano la rivolta degli indiani del 1881 quando Hitler invase la Polonia questo ho scritto così alla fine della settimana mi ricorderò esattamente cos'è successo domenica è grazie a questo meticoloso sistema che per 22 anni ho potuto tenere un diario senza saltare nemmeno un giorno per ogni azione significativa c'è un sistema specifico che ci sia il vento o no è questo il modo in cui vivo che ci sia il vento o no che ci sia il vento o no